Poi ci vuole essere un accanimento, perché di questo stiamo parlando, lo tratteremo, saremmo curiosi di vedere quale sarebbe il risultato di simili ispezioni su tutte le navi che sono intorno alla Sea-Watch e soprattutto sulle motovedette che questo paese ha regalato alla Guardia Costiera Libica e che almeno inizialmente erano equipaggiate con un mitragliatore a prua. Soccorrere non è reato. Quindi tu fai sbarcare questi signori, arresti l'equipaggio e affondi la nave! Arresti l'equipaggio e affondi la nave! Questo è un'operazione normale con una nave pirata che si mette in mezzo al territorio a fare la scuola di libri. All'altra Giorgia? Assolutamente nulla. Ciao! Arresti l'equipaggio e affondi la nave! Adesso è un'operazione normale con il canale pirata che si mette in mezzo al territorio a fare la scuola di migranti dall'Africa d'Italia. Quindi, devono fare scuola di migranti nell'ordine. Si può anche confondere un po' loro. Allora a questo punto proporrei, per la massima incisività, di invertire l'ordine. Cosa era l'ultimo? Affondare! Ok, si affonda la nave! Poi si sbarca gli migranti, quello che ne rimane. Insomma, questo è follia. Però dietro, lei mi insegna, c'è qualche cosa che a noi popolo non ce lo dicono. Impiccichi che cerca la Libia, tutti intrallarsi in multinazionalità. L'errore, il grosso errore, l'inganno è quello che ci stanno facendo scontare uno contro l'altro.